Torta di mele con crumble di noci e amaretti. Sei alla ricerca di un dolce goloso e che sia pronto in pochi minuti? La torta di mele con crumble di noci e amaretti è quello che fa per te. Realizzata con pochi ingredienti, è una ricetta dolce semplice e veloce da preparare, ideale per una merenda o una colazione golosa. Gli ingredienti da usare sono 2 mele golden ai 2 cucchiai di zucchero, una bustina di vanillina, 80 g di burro, 100 g di farina, 50 g di noci, 50 g di amaretti. Inizia la preparazione della torta di mele con crumble di noci e amaretti lavando e sbucciando le mele. Tagliale a fettine sottili e mettile in una terrina. Aggiungi 2 cucchiai di zucchero, una bustina di vanillina e mescola con un cucchiaio. In un'altra ciotola versare 100 g di farina, 80 g di burro fuso e mescolare con una forchetta fino ad ottenere un composto sabbioso. Aggiungi 50 g di noci tritate grossolanamente e di 50 g di amaretti sbriciolati e mescola ancora. Versa la frutta in una teglia da forno, ricoperta con carta forno, e distribuisci sopra il composto di farina, burro, noci e amaretti. Cuoci in forno preriscaldato a 180 per 30 minuti. La tua torta di mele con crumble di noci e amaretti è pronta.